Che belle labbra, grazie. Sei timida? Sì, tanto. Avete origini greche? Sì. Per metà. Perché mi hai guardato? Il Doc sembra gentilissimo. Sì, è veramente bravo il Doc. Perché è stato in felpa? Fuori c'è un vento bello forte. Qua fa freddo. Fa abbastanza freddino. Grazie per i regali. Ciao Davide. Grazie Ange. Che sport... Grazie Augusto. Per la rosa. Grazie Denise. Denisa. Comunque devo mettere in ordine la stanza. Sì. Prendi iPhone 16? Sì, ma qualcuno di voi sa quando... Quando... Quando esce l'iPhone 16? Perché la tieni in live? Sapendo che la insultano. Ciao. In realtà... Ciao Lara. C'è tanta gente che le vuole anche bene. Uno e due. Lei, mia sorella, vuole fare le live con me. Prima l'hanno chiamata e lei ha detto che voleva venire. Grazie Sofia. Ragazzi, lei... Veramente, lei... Grazie, Simo. Amore mio. Hai mai pensato di tagliare i capelli, chiedono? Sì, alcune volte. Ci penso. Quanto siete alti? Io sono... Più o meno... Uno settanta... Tre, tipo. Qualcosa del genere. Eh... Eh, sì. No, un settantatre, no. Ora un settanta. E ci arrivo fino a qua. Cioè... Io sono un ottanta, sei dieci centimetri più bassi di me, sicuro. Cioè, queste sono più di dieci... No, no, guarda che... Sì, sono più di dieci centimetri. Secondo me sono uno. Non sono tre. Tra poco mette l'apparecchio. Noi siamo a cinquantacinque volte che lei diceva. Vabbè, non rispondere. Non commentivo i pezzi. Andate sempre d'accordo? Rispondi tu, amore. Sì. Sì, non abbiamo... Sushi o pizza? Non discusso mai, penso, seriamente. Uno o due volte avremmo... Ah, quando eravamo più piccolini. Non litighiamo mai, io e mia sorella. Vieramente mai. Abbiamo... Abbiamo un bellissimo rapporto. Calcio o basket? Calcio. Io giocavo a calcio. Cosa ne pensi? Bello, bello. Mura, ciao. Grazie. Comunque è un mal di pancia oggi. Oddio. Che cos'è? Oddio. Grazie mille. Ma che cos'è? Buono. Non sono riuscita a leggere. Ciao Sofia. Cosa più strana che abbiamo ricevuto fino adesso. Che cos'era? Wow, grazie. Grazie, Dri. Ok. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Che cos'è? Cosa sono? Grazie mille. Ma che cos'è? Grazie Samu. Ma era leone? No. No, non era leone. No. Grazie Samu per il gatto. Grazie mille ragazzi. Grazie per il tuo. Grazie Abra. Grazie. Ma che cos'è? Ma queste sono queste cose? Io non riesco a capire. Grazie Lucia. È la prima volta che mi capita di ricevere queste cose. Ma la criniera del leone. Ah. Grazie. Grazie Abra. Grazie mille veramente. Grazie Abra. Grazie per i cappelli. Ma non riesco a capire cosa... Grazie Giada. Ciao Rebecca. Gaia, scusa Gaia. Dai che sport fa? Che sport fai? Non le faccio. Ma tra poco inizieranno sport. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao. Che amore. Grazie. Grazie Nina. Grazie Lara. Ma Abra ha dato tipo delle cose stranissime. Non so cosa... Lucia grazie. Grazie Lucia. Aspetta voglio vedere... Sono curioso di vedere una cosa. Perché secondo me... Grazie Gabri. Ma mi sa che tipo ha dato delle robe veramente mega... Ciao Tommaso. Arrivato mille. Quindi mi sa che ha dato una roba tipo... Grazie Abra. Grazie mille veramente. Grazie Gabriele. Grazie Mia. Grazie Cristian. Grazie a tutti ragazzi. Grazie mille. Siete fantastici. Eccolo Abra. Grazie mille Abra. Questo comunque è il top. Sono i capelli che vorrei. Cioè è assurdo. Dove fare biondo? Non è truccata. Non sono truccata. Ti ho beccato su azzaro con te. Aspetta no. Voglio leggere. Ti ho beccato su azzaro e ci siamo fatti le foto. Ciao Fra. Sì ogni tanto con te oentriamo su azzaro. Abra è fine. Spero non vedo. Ok. Abra grazie. Ma cosa sono queste cose? Abra veramente grazie mille. Ma non riesco a capire. Cioè Abra. Grazie Abra. Grazie mille veramente. Cioè non so cosa. Cioè sarei proprio curioso di vedere la cosa più strana che Abra. Perché fino adesso. Boh. Non avevo mai ricevuto quei cose. So nemmeno cosa. Boh. Che bello. Grazie Mary. Grazie. Grazie. Grazie Antonio. Grazie. Ragazzi. Grazie mille veramente. Grazie. Grazie Francesco. Grazie a tutti. Siete fantastici. Grazie Francesco. Grazie. Perché non ti fai i capelli lisci dicono? Oh aspetta è arrivato. Oh che cos'è? Abra. Che cos'è? No l'ha mandato Sabri. No Abra l'ha mandato. Ma che cos'è? Grazie Akio. Grazie Sabri. Grazie. Grazie. Ok. Comunque Abra c'è tipo dei regali bellissimi eh. Però sono tipo strani. Non mi era mai capitato di ricevere qualcosa che tipo... Che cos'è che avevi di fianco all'orecchio? Prima? No ape. Ape? Era un ape? Oggi i miei capelli sono veramente... Ti amo. Anche noi ti amiamo. Anche noi. Grazie. Un bacione. Grazie. 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 C'è un vento assurdo fuori. Ciao Amy. Grazie, grazie. Povellini. Grazie mille. Fatti io del nostro di profilo. Io? E' uguale. Così. Va bene? No. Va bene. La mia moglie. In che senso? Qualcosa che mi nascondi? No. Aurora, ciao. Ah, ma sei stupenda. Grazie. Grazie per regali, veramente ragazzi. Grazie mille. Ciao Arianna. Grazie Arianna. Anche tu. Grazie, Wizz. Ciao Ginevra. Che bel nome, Ginevra. Grazie, Mayla. Mayla, grazie mille. Grazie mille per il cuore. Bellissimo. Grazie mille. Grazie. Abra, è andato via. Grazie mille Abra per tutto. Non sono riuscito a ringraziarti. Grazie Abra, veramente. Sai che è uscito. Grazie anche a Mayla. Grazie a tutti, ragazzi, veramente. Nome. Nome. Ragazzi, ma una domanda. Ma a voi preferireste che facciamo un video su YouTube di intervista doppia o rispondiamo ai vostri commenti? Alle vostre domande, scusa. Qual è che preferireste? Perché volevamo fare un video su YouTube entrambi e non sappiamo quale dei due fare. Tu che dici, amore? Quale ti piace di più? No, entrambi. Entrambi, lei piace entrambi. Intervista doppia. Intervista o... Intervista, dicono. Domande. Intervista. Intervista, domande, intervista. Non so. Anche voi siete indecisi, eh? Ciao, Noemi. Primo regalo, grazie, grazie. Grazie. Ma perché c'ho i capelli così oggi? Ma sono belli. A me non piacciono oggi. Grazie, Giulie. Anche te. Saluti. Ciao, Evi. Grazie mille. Ciao, Willia. Come stai? Grazie, Willia. Grazie, Willia. Willia. Ma con quale coraggio hai lasciato il telefono? Vabbè, lei l'ha preso perfettamente. Bene, tu? Bene, bene. Ciao, Anthony. Grazie. Che anno è tua sorella? 2008. Vorrei farti altri piercing? Sì. Ci sto pensando. Però non... No, non lo so ancora. Sono un po' indeciso se farmi lì, no. Sei delle bravissime persone. Grazie mille. L'importante è questo. Sei perfetta. Bella, regà. Bella. Grazie. Domani è grande giorno. Grazie, Marco. Grazie. Grazie, Marco. Vi amo. Ricordate di essere grazie mille. Anche noi ti vogliamo tanto bene. Ciao, Giulia. Siete bellissimi. Ciao, Ale. Vi saluti. Hai una migliore amica? Sì. Sì. L'ho già conosciuta, vero? Vista. Conosciuta? Ah, ok. Ah, no, vista, sì. Anche noi ti amiamo, Saretto. Grazie, Amira. Anche noi. Anche noi. Anche noi. Ciao, Lina. Che carina lei, vero? Grazie. Litigate mai? No. No, abbiamo mai litigato. Ciao, Thomas. Ci dici il tuo nome? Perché non ti metti un apparecchio, ragazzi? Lo deve mettere... Deve mettere l'apparecchio. Lei lo sa, ve l'ha detto 20 volte. Deve mettere l'apparecchio. Capelli naturali o extension naturali? Tuo sera da si farebbe dei piercing? No. Che viaggi farete? Ho fatto un regalo a lei per la prossima settimana. E faremo un viaggio in un posto molto bello. E che per adesso non vi spoilerò. Però andremo io a lei. E forse anche mia amma. Vero? Vabbè, le ho solo detto ovviamente che c'è questo viaggio. Non le ho detto che di cosa si tratta, che regalo è, eccetera. Ho il 20%. Vabbè, tra poco spegniamo. Oggi è il mio compleanno. Tantissimi auguri. Tantissimi auguri. Vi amo. Grazie, ma quanto è carina tanto. Quanti anni hai poi? Sei bella. Sei troppo bella. Grazie, Chantal. Anche tu. Quanto siete alti? Io ho un 80, lei ho un 70. Grazie, vero? Grazie, vero. Grazie, Giulietta. Avevo pensato di metterti a posto i denti. Sì, devi mettere l'apparecchio. No, non ho il profilo. Hai il TikTok? No, no. No, non ha il profilo. Perché non tagli i capelli? Ti piacciono i capelli lunghi? O vuoi tagliarli? No, voglio tagliarli. Vuoi tagliarli? Sì, più o meno così. Vuoi tagliarli un pochino? Sì, stupenda così. Grazie, Giada. Bellissima. Grazie. Sei bellissima, molto matura per l'età che hai. Grazie. Ciao, Angela. Sei bellissima, grazie, Monica. Segno zodiacale, leone. E il tuo? Capricorno. Vabbè, no, non rispondo. Ora posso baciare la tua sorella? No. Beh, io direi che possiamo anche spegnere la live. Ragazzi, vi ringraziamo. Vi ringraziamo. Vogliamo un mondo di bene. Vi vogliamo. E ci beccheremo forse domani con altre live. Grazie mille di questa bellissima compagnia. Grazie, Sheila. Grazie, Speck. Ringrazio mia sorella che ha voluto fare la live prima quando l'avete chiamata. E niente. Vi vogliamo bene. Grazie mille per i bellissimi messaggi. Grazie mille per i regali. Ciao belli. Ciao belli. Ciao belli.